E allora ragazzi, benvenuti su Razie Connect, il canale privilegiato per chi vuole ascoltare le nostre produzioni, vigia di Pasqua, sto lavorando alle parti di archi che servono per questa canzone. Siamo in attesa di amici, resistere sono, voi ci ascolterete in differita, vi ricordo che io sono Enrico Cervellera, umile ideatore del progetto La Resistenza, cos'è La Resistenza è un Open Music Project, o un Music Open Project, non so come si debba ordinare, no, scherzi a parte, un Open Music Project, o PJ, boh, carino come cronimo, dove si prova a fare musica che parla di resistenza, di quotidianità. Resistere Allora ragazzi, in studio è venuto alla fine l'amico Alessandro, Alessandro che vi saluta Hello E lui ha il pianoforte Una mia scoperta L'abbiamo instradato Ed egli ha seguito la strada Sentite che mano Presto ve lo presenterò In apertura dei nuovi live della Resistenza Lo produrrò perché Lo state sentendo da voi La lotta di un uomo per sconfiggere il tempo per mezzo dell'arte Benvenuto nella Resistenza, figliolo You need a motif, baby You need a piano like this Yeah Vigilia di Pasqua State croggiolando Pugola di Pasqua Ne avete ben tonda Ma esiste anche Altro Mollate il telecomando È fuori di casa ragazzi Riunitevi Torniamo a riunirci Resistere Resistere è la parola d'ordine Resistere è la parola d'ordine Resistere è la linea diretta con noi Con la resistenza Allora un saluto a tutti Finisce qui questa diretta Resistere